Hai scaricato la ISO di Ubuntu Mate? Molto bene. Ora, visto che non siamo più nel 2006, non la masterizziamo su DVD, ma la mettiamo su chiavetta USB. Prima di tutto procurati una chiavetta USB da almeno 4-8GB. Mi raccomando vuota, perché andando a scriverci sulla ISO andremo a cancellare il contenuto della chiavetta. Poi, non basta copiare il file ISO su chiavetta, ma dobbiamo fare in modo di creare una chiavetta avviabile e per fare ciò andiamo ad utilizzare un software chiamato Rufus. La cosa bella di Rufus è che è un software leggero che non ha bisogno di installazione, quindi basta che lo scarichi e lo esegui. Consentiamogli di apportare modifiche al dispositivo e anche di controllare aggiornamenti online, perché no? A questo punto inserisci la chiavetta e vedi che compare subito nel riquadro dispositivo unità. Non dovesse comparire automaticamente, ovviamente, basta selezionare l'unità giusta. A questo punto, dopo esserti accertato che nel campo selezione boot c'è immagine disco o ISO, andiamo a selezionare la ISO di Ubuntu Mate appena scaricata. A questo punto basta cliccare su avvia. Questa schermata ci dice semplicemente che è necessario scaricare da internet la versione corretta di syslinux che il software utilizzato per fare il boot da questa chiavetta, quindi diciamogli di sì. Qui invece chiede in che modo scrivere l'immagine. Accettiamo pure il default. Come dicevo prima, questa operazione va a cancellare il contenuto già presente sulla chiavetta, quindi è importante che la chiavetta sia vuota, oppure con su della roba che non ti interessa perdere. Andiamo avanti. Finita la copia, abbiamo una chiavetta avviabile. Prima di riavviare, però, c'è un'impostazione di Windows da cambiare. Dobbiamo disattivare l'avvio rapido. Visto che nelle impostazioni di risparmio energetico basta che cerco ENERG nella barra di ricerca e mi ritrovo subito alla voce del pannello di controllo che mi interessa. Ok, non proprio. Allora, torno indietro su opzioni risparmio energia, poi vado su specifica cosa avviene quando si premi il pulsante di alimentazione. Ed infine vado su modifica le impostazioni attualmente non disponibili. Per qualche strana ragione non ho la voce di avvio rapido. Sarà perché sono in anocchina virtuale. Ad ogni modo dovresti trovarti con una casella chiamata attiva avvio rapido e dovresti togliere la spunta da quella casella. Se, come me, non hai la voce di attivazione avvio rapido, allora sei già a posto. A questo punto arrestiamo il sistema. Non andiamo a riavviarlo proprio a causa della modifica che abbiamo appena portato che ha effetto solo quando andiamo ad arrestare il sistema. L'idea adesso è quella di fare il boot da chiavetta, ma purtroppo questa è un'operazione che cambia da computer a computer. Su alcuni computer basta accendere con la chiavetta inserita che fa il boot automaticamente da chiavetta. Su altri invece occorre chiamare il boot menu e poi scegliere la chiavetta. Normalmente si accede al boot menu premendo in continuazione il tasto F12 immediatamente dopo ad aver acceso il pc, ma su alcuni computer il tasto da premere potrebbe essere differente. Una volta fatto il boot da chiavetta ci troviamo di fronte a questo menu che ci permette di provare Ubuntu Mati in modalità live oppure installare direttamente. Visto che la nostra intenzione è proprio quella di installare, nessuna recalcitranza! Selezioniamo direttamente l'installazione. Ora sta verificando l'integrità dei dati. Non ci mette molto, ma se non hai pazienza e vuoi subito andare avanti, basta che premi CTRL C. Visto che siamo italiani, selezioniamo italiano come lingua. Tastiera italiana va bene. A questo punto ci chiede se fare installazione normale o minima. Normale va benissimo. Se scaricare aggiornamento durante l'installazione, che va bene se abbiamo una connessione internet disponibile durante l'installazione. Poi ci chiede se installare software di terza parte per grafica, wifi e formati multimediali aggiuntivi. Questo va bene anche non selezionarlo, a meno che tu non abbia una scheda video Nvidia. Ed eccoci arrivati al famigerato momento di partizionamento del disco. Volendo puoi selezionare l'opzione di default che fa tutto in automatico, ma ti voglio mostrare che partizionare il disco non è così difficile come sembra. Quindi andiamo a selezionare altro. Ora, il tuo hard disk o SSD potrebbe essere partizionato in maniera leggermente differente dal mio, ma possiamo notare queste cose. Le partizioni sotto Linux vengono chiamate sda1, sda2, sda3, eccetera, eccetera. Nel caso tu avessi un computer recente con SSD NVMe, allora le partizioni sono chiamate NVMe0 e Neonop1, NVMe0 e Neonop2, eccetera, eccetera. A parte il nome, i concetti e le operazioni da fare sono identici. Abbiamo una partizione, in questo caso sda1, che è di tipo EFI, ed è lì che verrà installato il bootloader group 2. Abbiamo una partizione NTFS enorme, in questo caso sda3, che è dove è installato Windows. Le altre partizioni servono a Windows in qualche modo, ma a noi non interessano. Quindi, andiamo a ridimensionare la partizione di Windows per fare spazio a Linux. Linux. Io consiglio di dedicare almeno 32GB per Linux. Se ne dedichi di più, tanto meglio. Andiamo avanti, scrivendo le modifiche su disco, e vediamo che adesso abbiamo 32GB di spazio libero, dove ora possiamo crearci la nostra partizione Linux. I parametri di default vanno bene. Come curiosità, nota, usare come file system ext4 con journaling. Così come il file system nativo di Windows è NTFS, così per semplificare possiamo dire che il file system nativo di Linux è ext4. Importante è qui selezionare il punto di mount. A differenza di Windows, dove ogni partizione ha una lettera di unità tipo C2, D2 e D2, Sotto Linux, le partizioni hanno punti di mount, cioè vengono viste come sotto directory di un unico albero. Il punto di mount principale è barra. Quindi andiamo a selezionare questo. E ci siamo! Scriviamo le modifiche su disco. Il fuso orario di Roma va benissimo. E passiamo alla creazione di un utente. Qui metti come preferisci. Io metto free su tutto per semplicità. Poi, visto che il computer lo uso solo io, faccio che accedere automaticamente senza richiedere password. A questo punto viene copiato tutto quello che c'è da copiare e il gioco è fatto. Facciamo clic su riavvia. Poi, ora che ci viene chiesto, togliamo la chiavetta, premiamo enter e il sistema si riavvierà. A questo punto, ad ogni avvio del computer, vedrai questa schermata che ti permette di scegliere se avviare Ubuntu oppure avviare Windows. Andiamo ad avviare Ubuntu, giusto per vedere che tutto è stato installato correttamente. Bene, divertiti con il tuo nuovo sistema operativo. Da buono youtuber, ti ricordo di iscriverti al mio canale, attivare la campanella e che trovi i miei video anche su Library. E trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video, ciao!